Soprattutto in maniera manuale, per valutare il gas, l'ozono, se arriva un temporale, c'è il temporale arrivato. Oggi abbiamo le giornate fai di autunno che rappresentano il secondo evento più importante della nostra fondazione dopo le giornate fai di primavera, anche se come dati, come durata proprio dell'evento e i numeri che potremmo definire la sorella minore, ma neanche più di tanto, perché negli ultimi anni è cresciuto molto e quindi noi siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Allora, qui abbiamo un'immagine da satellite che alcuni anni fa usavamo gli apparati che sono nell'atrio, diciamo il laboratorio degli anni 80, complicatissimi, adesso basta semplicemente collegarsi a internet, ma nell'altra sede abbiamo anche i ricevimenti diretti, c'è tutta questa umidità, praticamente è nebbia sollevata, qui è la webcam che abbiamo sul tetto, in corso un'attività di ricerca, tra l'altro per l'identificazione delle nubi e del tipo di tempo in base alle webcam, avremo una tesi di laurea la prossima settimana in collaborazione fra l'osservatorio geofisico, il laboratorio LARMA e i laboratori di informatica. E qui infine le temperature, in questo momento ci sono 16,7 gradi qui nella balconata, l'umidità è molto alta, un 79%, è tipico della stagione se vogliamo, non è tipico della stagione, la temperatura, soprattutto la temperatura minima fa abbastanza caldo, in ottobre normalmente faceva abbastanza più freddo. Poi qui nel video abbiamo altre videate, si vedono tutti i dati completi, un'altra stazione perché ne abbiamo due in abbinamento, una principale e una di riserva, in modo da avere il più possibile la garanzia di continuità della ripresa dei dati. La storia di questo osservatorio nasce nel 1826 quando il Duca di Modena concede, dà in concessione la gestione all'università. Nasce come osservatorio astronomico perché in quegli anni era molto difficile, se non proprio impossibile costruire in alta montagna gli osservatori. Tuttavia a causa di alcuni problemi climatici, fenomeni come ad esempio la nebbia e anche ovviamente la sua posizione, rendevano difficoltoso e imprecise le analisi e le osservazioni, per cui diventerà nel giro di pochi anni osservatorio meteorologico. osservatorio meteorologico che non ha praticamente mai cessato la sua attività, se non per pochissimi giorni e ha permesso di creare uno storico di dati fondamentali per visionare e insomma avere anche un'idea del cambiamento climatico durante la storia di Modena. Sì, questo è nel punto dove dalla fine del 1800 si misurano quotidianamente le temperature e l'umidità relative. Precedentemente era in una finestra poco a fianco che fu ideata e costruita dal professor Aragona che fece in modo anche che gli strumenti si ribaltavano per non toccarli e non influenzare la misura. Siamo entrati momentaneamente, naturalmente, perché anche nel momento che si entra si cambia l'ambiente, perché qui sono state misurate e tarate le temperature dagli anni 50 o anche prima fino ad attualmente anche nell'ondata di caldo che va vicino al record storico, per omologare il dato che è stato il secondo giorno più caldo, non è stato battuto, 38,4 dagli strumenti elettronici, è stato sorprendente che questo strumento degli anni 50 ha misurato lo stesso valore. Abbiamo evitato che proprio nel momento di massimo splendore della società umana ci fosse un declino di un patrimonio culturale, scientifico e storico della nostra città. Altri osservatori e altre città nel corso della storia sono stati chiusi per vicissitudini varie e appunto di come evolve anche la scienza, anche la meteorologia. Adesso c'è una rivalorizzazione degli osservatori storici di meteorologia, alcuni nati astronomici come il nostro, altri nati all'interno dei seminari arcivescovili come Piacenza, eccetera, eccetera. Un grande ringraziamento al FAI, che ci ha consentito in queste giornate FAI di autunno di avere una delle prime grandi aperture in grande stile alla città dopo la notte dei ricercatori. Abbiamo in corso la domanda per il riconoscimento, l'organizzazione meteorologica mondiale di osservatorio storico centenario, ce ne sono pochissimi nel mondo, abbiamo tutti i requisiti, quindi questo è il nostro prossimo obiettivo. Grazie. Grazie. Grazie.